Ciao! Oggi andiamo a vedere come attaccare una cerniera automatica al fianco dell'armadio. Questa è una cerniera Ikea, va bene sia per gli armadi che per i mobili della cucina. Quello che dobbiamo fare è inserire questa linguettina qui, nel retro della cerniera, dentro al dente della basetta. Se questa non si aggancia, se la linguetta non si aggancia, la cerniera non entra. Quindi è fondamentale riuscire a farle combacciare. Appoggerai la linguetta nel dente della basetta, la cerniera deve essere inclinata e schiacci. Vi vediamo questa linguetta qui dentro. Linguetta, la cerniera è inclinata, quindi non provare a fare così perché non entra. Inutile provare ad agganciarlo in questo modo. Linguettina entra nel dente, la cerniera è inclinata e schiacci. Benissimo! Se il video ti è stato utile lascia un commento. Ciao, grazie!